ciao giuseppe benvenuto e bentornato a fmx 2021 questa volta un'edizione diversa e diversa effettivamente qui ti stimolo subito diversa perché tutti ci siamo abituati in realtà a un uso diverso delle cose soprattutto in ambito di digital marketing quindi la prima domanda è l'anno della grande accelerazione digitale cosa ha portato poi veramente nell'utente come come differenza proprio di abitudini e quindi cosa deve portare in noi marchettari come approccio a vendere il prodotto wow hai fatto una domanda che di quelle che vorrei dire ci servirebbero un paio d'anni e altro che libri da scrivere per metterla a posto e sistemarla ma allora c'è una metafora che mi piace molto e che la seguente una volta che il genio è uscito dalla lampada non puoi rimetterlo dentro la lampada ed è esattamente secondo me quello che stiamo vivendo adesso io sento ogni tanto in giro ancora dire nonostante siamo a maggio 20 21 che si torna alla normalità a un certo punto e che si sta tornando alla normalità e secondo me quello che stiamo perdendo è la capacità di capire che in realtà la normalità è questa cioè la normalità è che vivremo con le mascherine la normalità è che vivremo con questi con questi downsize della nostra vita per certi aspetti e degli upside dagli altri aspetti quindi la la cosa che sicuramente è avvenuta è questa accelerazione pazzesca che ha portato le persone a sperimentare e a capire che incredibilmente si può fare si può comprare online si può vendere online si può capire che anche prodotti estremamente emozionali estremamente di valore possono essere venduti attraverso questi canali e oggi sono per le metafore nicolo mi permetterai ma c'è un'altra metafora che secondo me è molto carina in questo senso a questo punto diventa importante il come ci mettiamo online e il come facciamo queste attività qual è questa metafora che volevo raccontarti è quella del pugile e del dentista entrambi sono in grado di toglierti un dente tendenzialmente più gradevole quello col dentista per quanto possa essere un'esperienza comunque difficoltosa per cui mi rendo conto che ci sono tante aziende tante imprese tanti brand che si vivono un po questa questa fase del diventare digitali come un togliersi un dente ecco l'invito è indirizziamoci verso quelle opportunità per cui magari ci abbiamo l'anestesista ci abbiamo un poio di di specialisti ci danno una mano perché il rischio invece fuori prendere una sonora legnata e di perdere un po di denti passiamo un passo indietro visto che è questa un'idea mia tutte le persone che si avvicinano al nostro mondo di bolla marchettara a volte vengono un subissate di proposte quindi fonte uno non sa se fare club house oppure il purpose driven oppure seguile nel senso va di buzzword forse facciamo un passaggio indietro può essere che questo anno che ha resettato un po meno tutto ispiri poi anche le marche più piccole non i grandi brand a cui non dobbiamo in questo momento noi dare consigli ma diciamo ma tutto quel grande mondo di pmi e quindi a ricominciare a pensarsi come marca costruirsi come marca prima di tutto per essere veramente poi resistente a quello che può arrivare guarda mi mi fa molto piacere che mi chiedi questa cosa perché è una delle io lavoro con grandi aziende ma anche con piccole e medie imprese ed è la cosa di cui mi trovo più spesso a confrontarmi soprattutto con le piccole e medie è proprio quello di dire ci sono degli strumenti digitali certo che ci sono possiamo fare e commerce certo che potete farlo shopify a 90 giorni gratuiti per cui potete farlo serenamente i social media sono a disposizione ma poi questi personaggi ai quali magari spieghi shopify spieghi queste cose sono contentissimi poi si bloccano alla domanda fatidica ma tu perché vuoi essere online ma tu che cosa vuoi vendere esattamente cosa è che dovrebbe convincere una persona a scegliere te piuttosto che un'altra azienda e non è avere shopify e non è avere in piedi social media management o altre cose è quella tua specifica caratteristica quel tuo carattere univoco distintivo che fa sì che una persona dovendo scegliere fra n miglia possibili variabili sceglie proprio te perché la roba che non ci stiamo dicendo è che esattamente come possono oggi le pmi italiane vendere online e possono anche altre milioni di piccole e medie imprese in giro per il mondo e quindi noi competiamo con l'attenzione di tantissimi altri personaggi allora prima di cominciare a pensare di mettere in piedi il proprio sito di mettere in piedi proprio digital asset e quant'altro le domande che dobbiamo farci sono ma perché devo andare lì sopra che cosa mi aspetto di fare e quello che sono stato sempre più che che mi diverte molto è che quando poi facciamo queste domande e chiedo magari al cliente di turno guarda torna da me quando avrai delle risposte a queste domande l'attesa media più o meno di una settimana e mezzo cioè devono capire ed è una cosa folle se ci pensi perché stiamo parlando dei loro obiettivi di business ma ci devono mettere una settimana e mezzo per riuscire a tornare indietro con delle risposte ma è un tempo molto utile e molto giusto perché poi alla fine quello che guadagni in chiarezza poi guadagni anche in valore e in e-commerce che fai dopo. Te ultimamente anche con l'ultimo libro hai lavorato tantissimo in questa costruzione di marca possiamo dare dei consigli a una team che dice sì forse effettivamente dovrei fare un passo indietro dovrei prima visualizzare il target a cui parlo e cosa sono io qual è la mia proposta di valore ma c'è un metodo c'è una strada ci sono degli step da seguire? Assolutamente sì e anche qui oggi vado per metafora Nicolò per perdonami ma anche qui la metafora giusta è quella della cena è quella della cena cioè noi siamo stati abituati per anni a vedere il marketing come io faccio l'azienda figa che fa prodotti fighi e se tu mi compri diventi un po più figo anche tu e se mi compri di fatto avrai la possibilità di diventare qualcosa di meglio questa metafora è stata recentemente ribaltata da quelli dai fantaguru delle purpose driven che ti dicono no non dobbiamo più dire che siamo esclusivi e fighi dobbiamo dire che siamo buoni perché se siamo buoni la gente vorrà avere a che fare con noi ecco io credo che bisogna avere come punto di vista invece quello della cena se io vado a cena con qualcuno con chi vado a cena? Vado a cena con persone che mi piacciono vado a cena con persone che che mi interessano certo ma che si interessano anche a me perché non c'è niente di peggio che andare a cena fuori con qualcuno che parla tutto il tempo di se stesso e che ha un ego grande come la Lombardia e che è divertente e quant'altro ma solo quando parla di sé ecco se invece entriamo nell'ottica soprattutto attraverso gli strumenti digitali che ci permettono un interscambio diretto che il valore aggiunto che possiamo portare è proprio quella dell'interazione della comunicazione della del chiedere delle cose capire in funzione del tono di voce anche dell'altra persona qual è il modo migliore per interfacciarsi e usare quel modo per riuscire a creare valore ecco secondo me questa può essere già una prima un primo step cioè domandarci ognuno di noi nel nostro business piccolo grande ma se mi trovassi di fronte al mio cliente a cena come parlerei con questa persona quali sono le cose che vorrei sapere da quella persona e quali sono le cose che vorrei raccontare a questa persona ecco se riusciamo a far sì che quella cena diventa un altro appuntamento e poi un altro ancora e poi perché no magari ci si sposa e si fanno anche dei figli allora la relazione perfetta funziona e duratura quello che è il paradosso del digitale che il digitale oramai è evoluto talmente tanto che ci permette di creare relazioni umane con i nostri clienti relazioni improntate a una forte caratteristica di umanità mediate dal marketing automation mediate dal seo mediate dai social ma noi riusciamo a creare oggi possiamo relazioni umane e se sono relazioni umane dobbiamo tornare alle basi quindi che tipo di relazioni vogliamo avere con i nostri clienti soprattutto penso e ti stimolo su questo perché con la costruzione di marca con questa relazione se veramente vogliamo assurgere all'off brand non soltanto a brand ma addirittura all'off brand il target la persona che il nostro pubblico diciamo diventa anche proprio parlando di business un oggetto che ha più valore il suo life time value ovviamente è molto più grande quindi effettivamente l'investimento di marca è anche un investimento nel tempo assolutamente sì e rimanendo sempre nella metafora della coppia oggi è andata così e c'è una grande differenza fra le coppie sane e le coppie non sane no le coppie non sane sono quelle dove uno si appoggia all'altro pensate ad esempio a una marca che magari si caratterizza nei confronti dei clienti come quella economica come quella che ti fa convenienza come quella che sì certo è un rapporto che si può creare un rapporto che ha un suo valore ha un suo perché il cliente riconosce che io riesco a avere convenienza attraverso la relazione con te ma cosa succede quando arriva la prossima realtà che è leggermente più conveniente di quella cosa succede quando arriva la ragazza ventenne la moglie quarantenne non è più interessante o viceversa rispetto agli uomini non voglio essere frainteso è chiaro che quello non è sano cosa è sano è sano rapporto paritetico i clienti ci possono dare moltissime informazioni per esempio su dove orientare il nostro prodotto ci sono tante realtà io penso faccio esempi di pmi italiane che sono diventate anche qualcosa di più di pmi come velasca lato scarpe mondo moda milano e kit e mondo intimo che anche questa è una start up fatta da due ragazze che stanno andando molto bene vende produce vende intimo online in entrambi i casi queste aziende hanno come pillar delle proprie attività proprio l'ascolto cioè partono dal capire da relazionarsi con un rapporto continuativo e di lungo periodo con questi personaggi questo perché un'altra delle cose che spesso ci dimentichiamo di ricordare come valore digitale è la capacità del digitale di passare da rapporti transazionali e quindi ogni anno riparto da zero cercando di vendere qualcosa a rapporti ricorsivi rapporto ricorsivo per eccellenza qual è amazon prime vogliamo tutti essere come un retail che ogni primo gennaio apre la serranda riparte da zero o vogliamo usare il digitale per assomigliare un po' di più amazon prime e quindi creare dei rapporti per cui i clienti sono disponibili a darci un euro al mese un euro settimana un euro all'anno ma creando un rapporto continuativo ecco l'obiettivo è il secondo l'obiettivo è creare legami di lungo periodo che le persone valorizzino e per questo stiamo disposti a pagare per essere presenti in quei rapporti visto che te nella risposta precedente lo hai tirato fuori come maggiore di un pochino pittipungolo parliamo di purpose driven perché diciamo se vogliamo è da due anni ma questo è l'anno di mezzo che c'è che tutti abbiamo attraversato è un anno di polarizzazione forte è un anno in cui le marche effettivamente hanno e anche hanno scorsi anche hanno prima preso posizione è un qualcosa intanto ti chiedo appunto se ormai è diventato veramente una buzzword e non ha più una base realtà vera di utilità e la seconda domanda che ti attacco però è anche la PMI si può permettere di fare come Netflix oppure no? Allora parto dalla seconda che secondo me è un tema molto importante secondo me le PMI devono fare un approccio simile devono essere coraggiose rispetto a questi temi più delle grandi aziende perché banalmente non avendo la dimensione delle grandi aziende si possono permettere di cambiare alcune cose nel proprio core nella propria offerta e che come dire li portano ad avvicinarsi ai propri clienti questo vale per le tematiche del purpose come vale per esempio per le tematiche del well being in azienda dell'employer branding ne parlo con molto piacere anche perché mia moglie si occupa di queste cose per una grande società di consulenza e lo vedo quanto anche nel suo caso le aziende le piccole e medie imprese arrivano dicendo ma noi non possiamo occuparci di well being per i nostri dipendenti perché siamo piccoli e lì se vuoi è veramente irrazionale perché l'unico valore aggiunto che un'azienda ha in un mercato in cui tutto può essere automatizzato sono le risorse umane se non hai il tempo e la voglia di occuparti delle risorse umane è un attimo un disastro per cui varrebbe assolutamente la pena farlo sul primo punto sono invece un pochino più scettico perché perché il purpose driven tutto legato il mondo legato al purpose a me puzza tantissimo di personaggi che erano abituati a ragionare in ottica di big idea big campaign big quant'altro e hanno sostituito quel tipo di approccio con l'idea del purpose a me piace di più un'altra parola rispetto al purpose ma inevitabilmente in quanto fantaguru anche io devo inventarmi le mie che è la rilevanza cioè a me non frega nulla del fatto di essere purpose driven se poi non c'è una duplice componente cioè da una parte il fatto di creare una visione che sia rilevante per le persone se la mia per il post è andare su marte ma andare su marte non è rilevante per i miei clienti posso avere tutte le purpose del mondo ma non casca a terra nel business cosa che è molto molto importante secondo aspetto che si attacca a questo della rilevanza è quello dell'autenticità cioè non è più il tempo in cui io posso raccontare delle storie purpose e posso dire sono wow sono figo e quant'altro e poi non metterlo in pratica il caso che tutti quanti citiamo quando parliamo di vero purpose driven ma appunto rilevante per i propri clienti e coerente col brand è quello di patagonia perché è rilevante perché patagonia parla di sostenibilità vendendo prodotti che la gente usa per andare in giro e quindi è giusto essere pro sostenibilità in un contesto che è rilevante per i tuoi clienti ma proprio da quando fa un passo in avanti perché poi crea che cosa per esempio crea un marketplace per i suoi clienti in cui le persone quando si annoiano di avere un prodotto patagonia invece di buttarlo per comprarsi un altro lo possono scambiare con altre persone ecco creare delle piattaforme simili creare delle experience simili per i propri clienti da autenticità a quel messaggio rilevante per il proprio pubblico e quindi crea valore per l'azienda ma le due cose non possono più essere separate non è più il tempo in cui le aziende possono raccontare delle storie bellissime e poi fregarsene della realtà dei fatti che c'è alle spalle visto che appunto hai tirato fuori una buzz da fantaguro tenercito un'altra ma a livello di resilienza a livello di essere antifragili è il digitale la diciamo la risorsa la leva che permette al ristoratore piuttosto che a chi vende appunto online e non online chi non vende ancora online di esserlo di diventare finalmente antifragile di poter essere un pochino più tranquillo che la prossima volta non lo stenda ma allora è un po come sai credo che stiamo nella situazione in cui stiamo iniziando a toccare la punta dell'iceberg delle opportunità offerte dal digitale forse non ce ne eravamo resi conti prima della pandemia ma a un certo punto non essere digitali per il ristorante ecco citiamo il ristorante sarà un po' irrealistico così come non avere l'energia elettrica all'interno del ristorante lo puoi fare puoi crearti la tua nicchia magari il ristorante che ripete una vita da preistorici meravigliosa senza elettricità per cui navighi con le candele meraviglioso io quando vado in toscana e c'è il periodo del sagre medievale mi divertivo come una bestia però è una nicchia di una nicchia di una nicchia se invece il nostro obiettivo è quello di avere un mercato più possibile largo e allora non puoi far finta che energia elettrica non ci sia e non puoi far finta che il digitale non ci sia cosa vuol dire questo vuol dire di nuovo capire qual è il punto di vista però dei nostri clienti per quale motivo google amazon negli altri continuano a vincere rispetto alle piccole e medie imprese perché ahimè hanno una visione data centrica che noi ancora non abbiamo esempio classico appunto è quello del ristorante io conosco diversi ristoratori soprattutto dalle parti della toscana dove vado nei weekend e con questi signori spesso mi trovo a disquisire sul fatto che il loro sito è bellissimo ma non dice nulla di quello che interessa le persone cioè è molto autoreferenziale noi siamo ancora a quel livello lì ecco quello che digitale può fare è dare delle risposte semplici e concrete ai bisogni delle persone per cui se una persona cerca un nome di un ristorante online non lo cerca per conoscere la storia di quel ristorante lo cerca perché qual è il numero di telefono qual è l'indirizzo come fare a prenotare punto e allora partendo da questa informazione cioè partendo da quello che i nostri clienti hanno bisogno da lì bisogna costruire una strategia digitale sensata che abbia come unico punto di atterraggio la creazione di dati l'accumulo e la gestione di dati e informazioni da parte dei nostri clienti che poi possiamo utilizzare per vendere nel migliore dei modi i nostri servizi quindi le piccole e medie imprese devono entrare lì dentro consapevoli che gli strumenti ci sono e che la vera risorsa scarsa è veramente il loro modo di interpretare questi strumenti come loro li vogliono utilizzare per creare valore per la propria azienda ti chiudo con una delle cose che secondo me anche dal punto di vista di creator mi trovo più a dover gestire nell'ultimo diciamo anno e mezzo due anni ormai praticamente tutte le marche o anche le tna che ci vengono a parlare parlano di influencer marketing come se fosse appunto una roba così come ci fosse sempre stato come se quella fosse veramente la soluzione a tutti i nostri problemi però perché parliamo di marca proprio perché parli di creazione di marca quello è un modo non soltanto per arrivare a più persone ma anche per dare solidità alla marca o anche tanti rischi dietro la costale la propria marca a un'altra che è comunque un altro brand ma allora è quello che hai detto è giustissimo c'è un enorme quantità di rischi ma come in tutte però le attività della vita nel senso che bisogna conoscere quelle che sono i limiti di questa di questo strumento riconoscere quello di cui tu realmente hai bisogno e tararti in funzione di questo io credo che la grande opportunità dell'influencer marketing sia quello di riuscire a in parte in modo industriale far partecipare delle persone gli influencer alla costruzione della nostra marca ora però nella frase stessa che ho detto c'è non dare visibilità alla prova meno 20 per cento c'è far partecipare dei creator alla costruzione della propria marca quelli più bravi vanno anche oltre invece di puntare unicamente a far veicolare un messaggio magari che chiedono ai creatori anche di creare proprio dei prodotti ad hoc sempre più spesso capita che non so il influencer di turno magari crea un pezzo una variazione della linea di quella particolare marca che al suo nome e cognome per quale motivo perché l'influencer marketing serve a una cosa serve alla marca per riuscire a parlare all'audience di quel particolare influencer e quindi se vuoi parlare a quell'audience non puoi pensare di parlare con la tua lingua con la tua grammatica con le tue modalità devi dare come se fossero degli ingredienti al creator e chiedere a lui di interpretare la sua ricetta della tua marca in modo personale e autonomo ci sono bellissimi casi anche di big influencer americani come non so farrell che fate cover sul profilo snapchat di adidas bellissimo ma per quale motivo perché farrell che prende il controllo di quel canale lo interpreta al suo modo l'unico grande limite è non vediamo queste attività come semplicemente delle marchette perché altrimenti perdiamo tutti e questa è una cosa che dicevo già dieci anni fa quando facevamo i primi progetti di influencer marketing ma evidentemente è ancora necessario ripeterlo non pensiamo a queste attività come dei one off come una scappatella serale per cercare di avere un po di visibilità in più perché quello può veramente danneggiare la marca perché l'influencer che poi viene ingaggiato in questo modo una volta con noi il giorno dopo va con il nostro competitor e fa esattamente le stesse cose da un'altra parte e quello non crea valore a nessuno Giuseppe grazie siamo arrivati alla fine abbiamo fatto un discorso praticamente fra le cose più vari degli ultimi veramente due anni di digital marketing ci ha fatto tanto piacere di averti anche con noi speriamo di rivederti anche prossimo anno probabilmente in live e quindi da noi con il toscano con molto piacere grazie mille nicolò e un saluto a tutti